Ogni tanto per chi cerca di portare contenuti particolari su internet Compaiono dei titoli di cui magari non sapevi niente Ma che ottengono un risultato pazzesco nel breve termine Un esempio è Animal Well Questo titolo che pesa solo 33 mega Che aveva una serie di follower che lo attendevano sterminata Com'è andata? È andata male? No, è andata benissimo, sta piacendo a tutti Costa diversi soldi, sono 33 megabyte come dicevamo E costerebbe di listino 24,50 euro Cosa vuol dire? Vuol dire che al megabyte Quindi ogni singolo megabyte di questo gioco Costerebbe 74 centesimi Quindi se voi lo pagaste un tot al gigabyte Questo gioco vi costerebbe 740 euro per intendersi Ogni gigabyte Questo non serve assolutamente alla mazza Ma era per indicarvi la buntà del prodotto Un prodotto che vi chiede dei soldi Ma che vi dà qualcosa in cambio E io, avendo provato il gioco alla ceca Non sapevo assolutamente niente di questo gioco E cosa mi avrebbe dato in cambio Quindi ho detto Ma se a tutti piace Cerchiamo di capire Senza averlo studiato Se è un gioco che mi può emozionare Che mi può piacere Quindi lo provo alla ceca Non do un giudizio Lascio a voi intraprendere le mie parole Le mie emozioni Per capirvi se Un gioco giocato così completamente Alla ceca come Animal Well Possa regalare delle soddisfazioni Nonostante si tratti appunto Di un gioco da 33 megabyte Con pochi pixel Ma di cosa tratta questo gioco? Praticamente è un platform Ma detto così sarebbe troppo semplicissimo Perché ci sono dinamiche Che uniscono il vecchio platforming Ed una volta A cose molto più moderne Tipo la fisica Tipo la possibilità di avere degli effetti Di illuminazione che un tempo non c'erano E soprattutto tante dinamiche di gioco Che andrete a vedere Se guardate tutto il video Che un tempo non c'erano Quindi è l'unione davvero Fra il retro gaming E il future gaming Animal Well È un prodotto Molto particolare Ma voglio che siate voi a dirmi Perché piace a tutti questo gioco Ma adesso Prima di andarlo a vedere Come al solito Vi rompo le scatole due secondi Iscrivetevi Cliccate sulla campanella Più veloce di così Non potevo essere A dirvi di farlo Dai Andiamo a vedere il video Su Si spengono le fiammelle Svegliati Sbocciamo proprio come un fiore Con assi salta E fin qua Allora l'impatto è È strano perché Sono veramente tre pixel Sullo schermo Forse quattro Non lo so Dovrei mettere ma a contarli Ma È tutto animato E effettato In una maniera che Vi fa dire Cosa Nel senso L'acqua I riflessi I colori Le scelte cromatiche Sono fatte con gusto Vediamo la scala Se si può risalire Si C'è tutta una fisica Poi O no L'acqua Uguale No buono Me l'hanno detto Che devo fare con questa cosa Allora C'è un inventario Che si Che si può Uh abbiamo perso un cuore Voglio perdere un altro Per vedere se è vero No Sempre tre Quindi non moriamo Era quello che volevo vedere Se finiamo in acqua Non moriamo Semplicemente diventiamo Rincoglioniti Più di quanto non lo siamo Ok sono luci queste Non capivo Sembrano degli anelli In stile Yurikeki Se non sapete chi è Yurikeki Mi viene voglia di sotterrarmi Ma Uh Che lecca Siamo tornati in basso Quindi dobbiamo stare attenti A non Cadere di sotto Quindi stare molto attenti So che la grafica ricorda Quella di un videogioco Degli anni 70 Sembra un gioco Dell'intellivision Per intendersi Ma La fisica moderna Fa sì che Questa sensazione Se ne vada Alla svelta Possiamo arrivare Lassù in qualche modo No perché Sbattiamo la testa Quindi Facciamo un'altra prova Ma No Non ci arriviamo Ok Facciamoci una ragione Non ci si arriva Ho poca esperienza Sui platform Di questo genere Devo essere onesto Mi viene in mente Un po' celeste Ma solo per il livello Di sofferenza Che potrei arrivare ad avere Visto che celeste Gioco meraviglioso Ma fuori portata Per me da morire Intanto con la B Il telefono Ciao Vuoi salvare i tuoi progressi? Ci mancherebbe A meno appare Un bel floppy Neanche Di quelli da 3 pollici 11 Ma di quelli da 5 pollici In stile Proprio anni 70 Oddio Ho paura che mi volesse ammazzare Credo che sia un indizio Del fatto che devo Seguire La volpe Adesso non abbiamo Un coniglio bianco Seguiamo la volpe In mancanza di essa Ma ci sono dei nemici Ci Ah Pensavo se ne andasse su Maledetto lui E adesso una vita in meno No Sempre 3 vite E questo mi sembra Molto positivo Mi sembra sempre positivo Ma c'è sempre quello Sì Levarsi da Da 3 passi Alla svelta Finiamo in acqua Quindi no Facciamo una finta Cosa ho fatto? Cos'era quella cosa? Non ho avuto il tempo Di premerlo C'era scritto Gira qualcosa Gira la ruota Yeah yeah Salta la ruota Gira la manovella Ma non è questo Devo fare mi sa Devo riuscire a fare Qualcosa di più veloce Forse andare su Non ho un tasto Per attaccarlo Cosa succede? Se lo faccio venire in qua E poi dopo Me ne vado Che succede? Mi insegue? Me ne qua? Ma io me ne vado Mi segue anche di qua? No Vediamo se ci segue anche qua La risposta è sì Devo riuscire a spengere Quell'aggeggio Velocemente E non è così semplice Quanto potrebbe sembrare Perché Ci arriva addosso Immediatamente No Ok Non è questa la via Da intraprendere Probabilmente Ci arriveremo dopo Magari quando avremo Un bazooka O una Testata nucleare Da attirare di contro Per ora Ci limitiamo A scappare Nell'altro schermo E vediamo Se un giorno Potremo tornare Vittoriosi No Ma la sono uno scemo Per non dire Un cretino Per non dire Un fava Per non dire Qualcosa di positivo Insomma Dobbiamo fare i passi Per bene qua Perché Perché è un platform Di quelli Che ti mette In difficoltà Quindi con calma Con la dovuta calma Con la calma Di chi crede Di sapere Dove deve andare Ma in realtà Non lo sa Oh no Trovo un secret Cos'è Ho aperto una porta Una manovella Wow Mi viene da dire Wow Se lascio cade No Sì Piano piano sì Quindi è bene Che non lasci Bloccata Ma come è bloccata No L'acqua no L'acqua mia C'è Rimane mica Ho capito Che è bloccata Che gli fa Che mi invento Ma sto gioco È pieno di secret places E qui dove me ne vado Però Vado su qua Forse posso andare Al di sopra No Siamo un po' limitati Però posso tornare indietro Ok A che pro Non lo so Ma posso tornare indietro Oddio È tutto un mondo Un mondo difficile Ho aperto la porta Ah sì Come l'ho sbloccata Non ne ho la più palle idea Ma chi se ne frega È sbloccata Andiamo Raccogli petardo Ok Forse devo tirare Quanti ne posso prendere Massimo 3 quindi 1 Lo possiamo tirare Per provare Chissà se ci potrebbe Tornare comodo Contro il nemico Di prima Ma fra l'altro C'è una mappa No Non c'è una mappa Mi sembra tanto strano Ma mi fido Non c'è una mappa Ok Se contano Sulle mie doti Di memoria Diciamo che non siamo messi Proprio benissimo Tirare il petardo È l'unico posto In cui non doveva andare Oh yeah Quindi ha funzionato Era proprio così Che doveva andare No L'acqua no L'acqua no L'acqua no L'acqua 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 no Ok Sto gioco effettivamente Ti prende Ti prende In una maniera Che non pensavi Perché è vero Che non sono proprio Amante In termini stretti Del genere Ed è anche Altrettanto vero Che io mi sono Completamente perso Non ho la più pallida Di dove mi trovi Ma Ed è un ma Considerevole Mi sto divertendo A giocarlo Che non è poco Insomma Direi che visto Di giocare Dovrebbe essere Il motivo per cui Uno Accende il computer Barra la playstation Barra quello che è Metteteci Barra L'xbox Perché se no Qualcuno se ne ha male Ma come l'xbox No Si l'xbox Si C'è un coniglio Ora da seguire Giustamente Si chiama animal well Cioè il pozzo Degli animali Perché non dovrebbero Esserci gli animali Ha tutto un senso Candela spenta E come l'accendo Eh non ho nulla Per accendere Petardo Non arriva lì Bah Un uovo Meraviglio Bello nel frattempo Che la gente Mi cerca Su steam E poi mi scrive Chi sei Questo è molto bello E finirà nel video Allora qui abbiamo un uovo Un uovo Che non credo Mi serva per accendere Una candela spenta Anche perché sarebbe Veramente bello Ma Ho i miei dubbi Usiamo l'uovo No Usiamo un petardo Niente Petardo non si può E quindi Dove vogliono Che io vada Che succede Se io giro la manovella All'infinito Niente Succede esattamente questo Che non è che sia Granché Quindi tiriamo su Ok Questo è il suo termine Ultimo Ma non c'è niente Qua Tornando su C'è poco e nulla Anche di qua No C'è che posso andare a destra Assolutamente Magari trovo La mappa Attenzione La mappa Signori La mappa Aveste pensato E trovare un accendino No La mappa Che è comunque qualcosa Io non riesco A arrivare lassù però Che gli posso fare Alla luce Assolutamente nulla Niente Però è divertente Farlo Ok Ci si arriva lassù Bene Molto bene Ci abbiamo un save Vuoi salvare Assolutamente Tutte le volte Che è possibile Farlo Sì Mangia frutta Che roba è mangiato Uh ripreso una vita Frutto Sembrano pinguini Nucleari Tattici Questi Ma comunque O se non sono Nucleari E tattici Quanto meno Pinguini Pinguini Credo di sì Cioè Se dovessi dirvi Perché mi piace E non è perché Ho trovato Dei francobolli Che ancora Non potevo sapere Di avere È il fatto Che siete immersi Nelle luci Nei colori In una maniera Molto ben curata Che in 33 mega Onestamente Si ci può stare Non è che mi stanno Facendo vedere Che ne so Il nuovo doom Per intendersi A livello di grafica Però è davvero curato Cioè Pixel art Ok Pixel art Di quella dettagliatissima No Ma colori vividi Molto ben scelti insieme Palette cromatiche Molto Ben azzeccate Da accostare E a mio avviso Un gioco davvero Interessante Ho preso anche un disco Ora E Riporta il disco Scompare Prendo il disco Che gli fa? Il problema sta fermi Mi ammazza No Posso mettermi I petardi Come Niente Farò un disco Tu disco Ma io voglio Scappare Da Da sto coso Mi inseguirà Tutta la vita ovunque Ma anche si E si more E sa si more Oh no Da dove riattacco Di qua Ai 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 Che dire L'esperienza Introduttiva L'abbiamo vissuta Di questo Animal Well Mi ero chiesto Perché piacesse A così tanta gente Un gioco Fra l'altro Costoso Perché Non è il classico indie Da 4 euro Qui vogliono Una cifra considerevole Un gioco che pesa 33 megabyte Ve l'ho fatto all'inizio Il calcolo Di euro al giga Che avrebbe Cioè La follia totale Eppure è seguito da tanti È giocato da tanti È apprezzato da ancora di più E capisco il motivo Perché se siete amanti Del genere Platforming Puzzle Se vi piacciono i giochi Fatti come erano fatti Un tempo Scusate il gioco di parole Questo è un gioco Che mi sento di consigliarvi Alla stragrande Magari tenetene di conto Per quando andrà in saldo In maniera considerevole Ma anche a prezzo pieno Potrebbe avere un suo perché Tra l'altro il gioco è in italiano Quindi non avete scusanti Di nessun genere Se è il vostro genere Madonna Quanto sono bravo A ripetere le stesse parole sempre Vi ringrazio per il tempo Passate insieme È sempre un enorme piacere È un privilegio E vorrei tanto avervi nel prossimo video Quindi sapete cosa fare Iscrivetevi E cliccate sulla campanella E noi ci vediamo lì Ciao 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 Grazie a tutti.